È stato l'incubo della sua ex fidanzata per quasi 5 anni, ora per un quarantenne di Villanova di Campo San Piero, accusato di atti persecutori, è stato disposto il divieto di avvicinamento con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Il calvario per la donna era iniziato nell'agosto del 2019, quando aveva interrotto la relazione iniziata tre mesi prima con l'uomo per colpa dei suoi atteggiamenti morbosi e ossessivi. Per tutta risposta l'ex ha cominciato a tempestarla di messaggi vocali, telefonate, la pedinava in tutti i suoi spostamenti. Dopo qualche anno, a fine del 2022 però, la donna, convinta che l'ex fosse cambiata, aveva riallacciato i rapporti, rendendosi conto subito che gli atteggiamenti morbosi e assillanti erano rimasti sempre gli stessi. La storia era nuovamente finita, ma l'uomo ha ricominciato a perseguitarla con messaggi minatori, offensivi, continui appostamenti sotto casa, arrivando perfino ad installare un cellulare nella parte posteriore della sua auto per seguire i suoi spostamenti. Una volta scoperta una nuova relazione della donna, aveva anche pedinato il suo nuovo compagno. Stanca e esasperata, la vittima dello stalking si è rivolta così ai carabinieri di Vigonza, denunciando per ben due volte l'ex. Dopo l'indagine, la procura ha disposto l'obbligo di braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento.